Presentiamo eventi itinerari, mostre in nove mesi, da aprile a dicembre del prossimo anno, all'interno di un viaggio in Campania, il Grand Tour, e che ritorna un po' alla mente la storica formazione settecentesca. La Campania non ha solo questi grandi giacimenti, Pompei, Ercolano, Stabia, la Regge di Caserta, Velia, Pestum, ha tantissime risorse, questo patrimonio a cielo aperto che è la Campania. La capacità nostra oggi è di creare, mediante questi eventi, questo cartellone di eventi, una serie di politiche integrate per poter sempre più creare emozioni, suggestioni delle nostre bellezze. Per la prima volta qui in Campania i turisti stranieri hanno superato i quelli nazionali. Auspichiamo, per i risultati che stiamo verificando, ottimismo nel prossimo anno. A noi il compito oggi è di creare le condizioni per poter rendere sempre più integrato e sempre più valorizzato, mediante quelli che sono i circuiti della sicurezza, dei servizi, della mobilità. E su questo io vorrei annunciare fin da questo momento che la Regione Campania sta provvedendo anche a recuperare quelle belle esperienze che sono state le vie del mare. Grazie a tutti.